In categoria Master 17 anni e più abbiamo due rider, la partenza che lo porta alla comando e la maglia delle gesti di Alix, quella vestita quest'oggi da Pier Giorgio Acquarelli il numero 569, il rider Umbro alla comando di questa prima mosce di finale nella categoria Master 17 anni e più, a seguire il numero 956, il portacolori il KDMU San Verona e finissero con Lorenzo Pavalli, il rider Umbro alla rimpista e sono già l'ultima cura in questa prima mosce di finale della categoria Master 17 e tutti finissiamo con la vittoria in questa prima mosce di finale per Pier Giorgio Acquarelli il giusto KDMU San Verona e via via